dopo un giorno che la vespa è rimasta chiusa qui senza aver fatto un solo metro è pronta a ripartire lasciamo gli amici che ci hanno ospitato mocia grazie a scatolina e per rick mocia gratis le donne si fanno sempre aspettare guardate questa vespa sta diventando come la mia noi siamo pronti ad adara da un posta apposta 189 chilometri andiamo ieri ha fatto un video molto lungo quindi oggi cerco di farlo di meno perché mi prende troppo tempo finito a mezzanotte ciao Grazie per la visione 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 Ciao Ciao Ciao